Buonasera a tutti, benvenuti a questo spettacolo per noi molto speciale, erano anni che lavoravamo ad un'idea di un spettacolo così, volevamo raccontare i tesori della Sicilia che sono e poi i tesori di tutta l'Italia, che il canto popolato, la poesia, se volete tornato qui, qui si è sviluppato un'idea della poesia in musica, qui si è sviluppato la possibilità che questa poesia potesse essere parte integrante della vita degli uomini semplici, degli uomini che magari non sapevano leggere, che però sapevano fare la poesia. Noi raccontiamo questo mondo, questo mondo antico che non c'è più, che però è un mondo a cui noi aspiriamo, è un mondo dove la comunità è centrale, dove c'è accoglienza, dove c'è senso di appartenenza e dove c'è solidarietà. E per fare questo viaggio incominciamo subito con uno dei grandi interpreti che è la nuova musica popolare siciliana, Mario Incubino. Grazie. 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 Grazie.